Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi Grazie a tutti E gli disse loro Prendeteli e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi Perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre anni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti